Siamo live, eh? Siamo? Beh, si può cominciare, credo, sperando ci sia un po' già qualcuno collegato. Ok, allora cominciamo. Buonasera a chi è collegato a questo momento, siamo alla Enesimo, mi ricordo bene il numero di quanti iniziative abbiamo fatto, ma sono tante, sempre grazie alle 13 Ampi che hanno dato l'adesione sul confine fra Empoli, l'Empolese e il Pisano, quindi la Valdelsa e l'area Pisana e soprattutto grazie a Simone Ricotta perché è lui che ha ideato la rassegna e poi ha avuto alcun discreto insomma richiamo, viste anche le modalità con cui l'abbiamo fatta, è sempre online che è un metodo che da una parte attira sicuramente le persone per facilità, forse diciamo è anche più stancante per certi versi. Come sempre però questa iniziativa di oggi sarà poi visibile sul canale YouTube della Storia per Tutti, quindi anche uno se la potrà riguardare o guardare insomma a proprio piacimento. Stasera sono particolarmente contenti perché ha accettato l'invito a partecipare il professor Filippo Focardi che è docente all'Università di Padova e diciamo è uno degli storici di riferimento per non solo per quanto riguarda la storia contemporanea, soprattutto la storia del fascismo e del nazismo, ma per quella parte importante della ricerca storica è quella legata alle politie della memoria, alle politie della memoria pubblica, all'uso pubblico della storia e anche all'utilizzo mediatico. Ha al suo attivo veramente una produzione bibliografica notevole, cito solo alcuni libri che sono stati importantissimi per il dibattito storiografico in Italia, dalla guerra della memoria, la resistenza al dibattito politico italiano dal 45 a oggi, che è uscito nel 2005, sempre sugli stessi temi e memoria e rimozione, riferiti però al crimine di guerra del Giappone e dell'Italia, un libro importantissimo che ha dato poi il via con tutta una serie di discussioni importanti che è Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, è stato un libro fondamentale per tutta una serie di questioni che non erano state affrontate con quei criteri, poi l'Europa e le sue memorie, l'Italia e il Germania dopo la valuta del muro, le ombre del passato, l'Italia e il problema di fronte alla memoria della Shoah, la guerra della memoria, la resistenza al dibattito è stato un po' ristampato e il libro di cui parliamo ad oggi non è l'ultimo che è uscito, realizzato da Filippo Focardi, quello di cui parliamo oggi è Nel cantiere della memoria, Fascismo, Resistenza, Shoah e Foebe, che è un corposo volume che raccoglie tutta una serie di scritti rielaborati per l'occasione da Focardi, che tratta tutta una serie di tematiche ordinate anche per temi e che è un libro completo per tutta una serie di questioni. Il libro uscito più di recente, sempre per la VL, Cultura antisemite, Italia e Europa, dalle leggi anti-ebraiche ai razzismi di oggi. Ecco, parlando del libro, tornata bomba al libro di oggi, innanzitutto ringrazio ancora il professor Filippo Focardi per aver accettato il nostro invito per presentare questo libro, è un libro molto importante per la discussione storiografica perché contiene innanzitutto una mole impressionante di fonti bibliografiche che sono fondamentali e poi perché affronta alcune tematiche che per quanto siano state già affrontate, ovviamente da Focardi e anche da altri autori, non sono poi entrate così approfonditamente nel dibattito extra-storiografico, o perlomeno sono entrate in parte, alcune sono entrate e altre no, altre poi come si vedrà si vedrà anche parlando, sono entrate e poi sono anche riuscite, non sono riuscite ad attecchire in maniera così profonda. Alcune sono anche scomparse dalla discussione, forse una ventina, trentina di anni fa la discussione storiografica era un pochino più accesa e arrivò anche, poi ne parliamo più avanti, anche a toccare la televisione di massa su alcune questioni anche polemiche alla fine di quella che è la cosiddetta prima Repubblica, fra il confine fra la prima e la seconda, si toccavano molti temi con molta anche virulenza, forse oggi si sono un pochino più appianati certi tematiche, ma in realtà ci sono altri rischi ed altre questioni. Io, visto che il testo è molto ordinato da un punto di vista anche della sistemazione dei vari capitoli e anche perché ritengo che sia uno dei punti più rilevanti toccati da Focardi, partirei se si è d'accordo su questo elemento che comunque ritorna e non è comunque entrato così approfonditamente nella discussione comune, quella dell'alibi del cattivo tedesco, ovvero di questa memoria che appartiene non solo alla memoria ma anche a un certo tipo di ricerca storica che tende a, tradizionalmente anche di recente, anche trasmissioni recenti a sostanzialmente identificare il totalitarismo con il nazismo e lo stalinismo e mentre si retrocede, si analizza il fascismo non come totalitarismo ma come forma autoritaria in fondo non particolarmente appaiavoli agli altri due fenomeni. Ovviamente su questo aspetto c'è stata una discussione approfondita ma sembra che questo tipo di acquisizione non sia diventato poi così comune per quanto ovviamente le tematiche e l'approccio sia cambiato. Passo la parola volentieri a Filippo Focardi. Sì, grazie Andrea, grazie Andrea Bellucci, grazie all'invito, grazie appunto alle 13 Ampi che sono state ricordate all'inizio, hanno organizzato questo incontro e grazie di cuore anche a Simone Ricotta. Dicevi, sì, c'è un elemento appunto che è quasi un'asse centrale del mio libro, almeno tutta la prima parte del libro è dedicata proprio all'alibi, lo chiamo così, del cattivo tedesco, perché in Italia noi abbiamo costruito sia la memoria della seconda guerra mondiale, sia la memoria della raffigurazione del fascismo sempre diciamo sul confronto con la controparte tedesca. Per cui il soldato italiano è quello che ha salvato gli ebrei, che spezzava al pane e lo dava al bambino greco affamato, che lui stesso aveva occupato, ricordiamocelo bene, no? Spezzeremo le rene alla Grecia. E dall'altro lato questa immagine appunto del soldato italiano era contrapposta allo spietato camerata tedesco, belva nazista, cacciatore di ebrei, eccetera. E questo per quanto riguarda la memoria della seconda guerra mondiale, ma questo criterio, questo sistema, questo metodo di appunto costruire una raffigurazione, una memoria nazionale, sempre in comparazione con la Germania e con i tedeschi, è stato utilizzato anche rispetto al fascismo. Quindi non solo la memoria della seconda guerra mondiale, ma anche la memoria del fascismo, che è caratterizzata appunto da quello che io riprendo qui una definizione molto calzante di David Bidussa, lui parla del demone dell'analogia. Noi siamo come in preda a questo demone, per cui non siamo in grado di raffigurare il fascismo se non lo contrapponiamo al nazismo, di cui raffiguriamo una specie di ideal tipo, no? Il nazismo come la quintessenza del totalitarismo d'acciaio, i tedeschi tutti intrisi di antisemitismo e di fuga omicida e rispetto a questo, allora, abbiamo definito con tratti molto più bonari e anche autossolutori il nostro fascismo. Quasi un regime, no? Un autoritarismo bonario all'acqua di rose, magari connotato da tratti così scenografici, il Mussolini che fa le sue pose da Piazza Venezia e però, diciamo, ipoteticamente, presuntivamente connotato da un basso tasso di violenza, cosa che non è stata così. Ora, attenzione, perché per capire come funzionano queste cose dobbiamo fare attenzione, secondo me, ad alcuni elementi. Cioè, sia la memoria del cattivo tedesco contrapposto al bravo italiano, sia la memoria del fascismo, autoritarismo blando in contrapposizione al nazismo e anche al comunismo, perché c'è un altro elemento, naturalmente, che giustamente Andrea aveva evocato, no? Il fascismo non sarebbe un totalitarismo come invece lo sarebbero nazismo e comunismo. Ebbene, dicevo, questa raffigurazione ha degli elementi di verità, non sono delle fake, non sono delle invenzioni totali, perché effettivamente il comportamento del soldato italiano alla Seconda Guerra Mondiale è stato diverso in molte circostanze da quello dei tedeschi. Effettivamente, se prendiamo il caso dell'atteggiamento nei confronti degli ebrei, insomma, gli italiani ne hanno salvate diverse migliaia fra Jugoslavia e Francia e la stessa Grecia, i tedeschi sappiamo quale atteggiamento avessero. Così come effettivamente ci sono delle differenze, anche fra fascismo e nazismo. Il punto è che tutto questo è stato utilizzato, queste differenze sono state esasperate, per così dire, fino a portare a una sorta di scissione totale fra italiani in guerra, tedeschi in guerra, sto parlando della guerra dell'Asse che hanno combattuto insieme, e fascismo e nazismo. Questo è un grande problema, che ha portato a una raffigurazione completamente fuorviante, sia del comportamento italiano nella guerra, con tutta l'omissione e la rimozione dei crimini commessi da parte italiana, soprattutto nei Balcani, sia rispetto alla raffigurazione del fascismo, per cui si è affermata questa visione, appunto, dicevamo, bonaria, autoassolutoria del fascismo. Ecco, questo secondo me è un elemento molto importante, perché tuttora c'è una larga tendenza a seguire questi cliché, questi stereotipi. Mi sembra che avevi fatto un accenno all'inizio al potere dei mass media, perché effettivamente questa contrapposizione fra fascismo e nazismo ha avuto, come dire, un impulso fortissimo negli anni Ottanta, attraverso quella che è stata una sorta di volgarizzazione mediatica delle tesi dei felici, perché è stato dei felici dal punto di vista storiografico, che ha avuto tanti meriti, non li voglio disconoscere, per la sua ricerca è stata molto importante, però come impianto interpretativo dei felici ha sottolineato, esasperato al massimo, la distinzione e la differenza fra fascismo e nazismo. Ecco, poi è subentrata tutta una schiera di quelli che sono stati definiti storici dal rotocalco e dal toll show, la definizione di Sergio Luzzatto, cioè giornalisti come Indro Montanelli, Antonio Spinosa, Giordano Bruno Guerri, che sono stati dei veri e propri agenti multimediali, che scrivevano opere di storia vendute a dispensa nell'edicole, che facevano i consulenti per trasmissioni televisive, che realizzavano mostre, ebbene che hanno volgarizzato, per così dire, mediatizzato la lezione storiografica di De Felice, facendo perno proprio su questa distinzione fra Italia e Germania, fra appunto bravi italiani e cattivi tedeschi, e questo ha avuto un impulso fortissimo attraverso i mass media negli anni 80, tanto secondo me da sedimentare un senso comune molto diffuso, che c'era già prima, perché io l'ho scritto un capitolo del mio libro in cui faccio vedere come questa contrapposizione era stata elaborata fin dall'indomani alla seconda guerra mondiale, e fra l'altro, un altro aspetto interessante, anche la stessa cultura antifascista un po' aveva seguito questo trend per quanto riguarda la memoria della guerra, perché la classe dirigente antifascista voleva giustamente evitare il rischio di una fascia punitiva, e quindi sottolineava i meriti degli italiani nella resistenza e i meriti umanitari degli italiani durante la guerra dell'asse, per evitare una fascia punitiva. Ma anche rispetto a fascismo e nazismo, insomma, un po' questa tendenza a scaricare sul nazismo il male assoluto fa parte anche della cultura antifascista. Io faccio un esempio, ve lo riporto così ci capiamo, quando parlo di cultura antifascista parlo della cultura antifascista in tutte le sue principali famiglie politiche, liberale, cattolica e marxista, c'è una frase che ho trovato ad una concomitanza di grande interesse, prendiamo Croce, Benedetto Croce, filosofo liberale, lui fa questa affermazione, gli italiani fanno i fascisti, i tedeschi sono nazisti, che la dice tutta, per cui il fascismo sarebbe una cosa superficiale, non avrebbe intriso, non avrebbe penetrato nella società italiana, invece il nazismo ben altro. Ecco, la stessa frase, uguale, identica, gli italiani fanno i fascisti, i tedeschi sono nazisti, la ritroviamo nei diari di Ranuccio Bianchi Bandinelli, intellettuale comunista. Ecco, è questo per capire un po' il capirsi, no? Oppure nella raffigurazione dei due leader, no? Hitler è il genio del male, Mussolini è un po' un agitatore di popolo, non che si disconosca anche la sua dimensione criminale, ma insomma, paragonata a Hitler, uno è Gengis Khan, sarebbe Hitler, l'altro è un Puccinella, un Masaniello, uso proprio termini che correvano sulla stampa antifascista del 45 e del 46. Sì, questo è l'aspetto, diciamo, anche perché si dimentica o si tende a dimenticare che la prima genitura del fascismo è italiana e quindi... e quindi come... e soprattutto c'è ancora una... in realtà non ci dovrebbe essere, ma c'è ancora una visione di questi regimi come una specie di marchio di fabbrica, mentre mi ricordo il libro fondamentale di Collotti ormai di 32 anni fa, che era Fascismo, Fascismi, in cui Collotti analizzava le diversità tra i vari regimi, le caratteristiche specifiche dei regimi e andando poi a analizzare quelli che erano poi i tratti. Uno è un lavoro, insomma, oggi forse poco frequentato rispetto a qualche anno fa, purtroppo, perché rimane un lavoro teoricamente molto importante. Si dimentica questo aspetto e si dimentica anche che il rapporto con il nazismo fino a un determinato periodo storico non è assolutamente di sudditanza verso il regime nazista, ma è semmai il contrario. Se pensi che... se noi guardiamo la questione della guerra, se vai al bar, ci trovi sempre e lo dici l'unico errore Mussolini è di aver precipitato il paese nella guerra a fianco di Hitler. Ma l'Italia, attenzione signori, intanto era già in guerra ininterrottamente al 35, l'Italia di Mussolini. La conquista dell'imperio contro l'Etiopia non è una guerricciola con pochi uomini, è una grande guerra moderna in cui vengono mandati mezzo milione di soldati. Poi senza soluzione di continuità, l'intervento a fianco di Franco nella guerra civile spagnola, anche lì 80.000 uomini, quasi 1.000 aerei, gli aerei italiani sono i primi a effettuare un bombardamento su obiettivi civili su Barcellona e così via. Quindi c'è questo... concordo appunto con quello che dicevi, l'incapacità di tenere presente la storia. Appunto il fatto che il fascismo è stata la culla, l'Italia è stata la culla del fascismo e che il paese ha avuto una responsabilità molto grave nello scardinamento dell'ordine internazionale negli anni 30, entrando per così dire in guerra ancora prima nella Germania. E proprio perché l'Italia aveva speso tantissime energie in queste guerre ininterrotte dal 35 in poi, quando nel 39 scopre la seconda guerra mondiale, non ha le forze per entrare subito nel lagone. Poi, come sappiamo, nel giugno del 40 Mussolini dice, a questo punto conviene entrare, voglio 2.000 morti da mettere sul banco delle... Però tutto quanto, tutta la storia del regime fascista negli anni 30, diciamo anche la politica espansionistica di quel regime fascista portava a quell'alleanza e a quell'esito, a quella guerra, alla guerra dell'asse. Quindi sì, questo va assolutamente, va tenuto presente. Mi viene in mente, aggiungo una cosa, perché in questo, questa tendenza a, così, a obliterare, a dimenticare, a rimuovere la dimensione oppressiva e violenta del fascismo, è stato ben definito da Emilio Gentile, un più grande storico comunque del fascismo, come un processo di defascistizzazione retroattiva. Cioè a un certo momento, lui scrive questo all'inizio degli anni 2000, quindi quando siamo in un periodo particolare, appunto anche nel dibattito pubblico italiano, sono i governi di centro-destra. Lui parla appunto di questo processo secondo il quale il fascismo viene privato dei suoi requisiti autoritari, repressivi e anche criminali che storicamente aveva avuto. Questo è il concetto espresso a Gentile che è molto calzante e fotografa bene una tendenza che ancora è abbastanza diffusa in Italia. Sì, ecco, una cosa che a me ha sempre colpito, e poi insomma nelle rappresentazioni, è fare conti con il fascismo è sempre stato inteso in un certo modo. In realtà si è oscillato fra considerare l'Italia una prigione di antifascisti in cui il regime governava senza il consenso, poi una parola tirata fuori dei felici, prima si è spirito pubblico, insomma, e il consenso della popolazione, cosa che non corrispondeva esattamente all'idea stessa di fascismo. Dall'altra poi la vulgata è diventata quella di un regime, anche ultimamente, nel libro di Bruno Vespa, insomma, per parlare di storici da Rotoarco, che poi insomma vuoi sapere che li riscrivi, ma insomma è venuto a voi questo aspetto che alla fine tutta la popolazione era per il fascismo. In realtà la questione è quella di quale classi sociali erano legate e erano più portate di altre a appoggiare il regime, non solo quelle dell'industriale, anzi sembra che l'industriale non fossero poi, essendo classi dominanti, così poi appiattite sul fascismo, ma insomma tutta una certa classe media, piccolo borghese e reduci di quei hanno appoggiato perché si sono sentiti, diciamo, anche tutelati e anche riconosciuti in determinati aspetti. Forse è questo aspetto che non è inseribile nella storia d'Italia, mi chiedevo, è difficile e allora si preferisce o si è preferito per una narrazione, come dicevi giustamente, anche per una narrazione post seconda guerra mondiale, per il contesto geopolitico, considerare tutti gli italiani come oppositori del regime, dall'altro poi passato questo periodo storico cercando di inserirlo nella storia d'Italia, diciamo considerando tutti gli italiani come sostenitori di questo regime e come dicevi te, eccetto poi la guerra, come se fosse un incidente di percorsi. Sì, secondo me lo sforzo da fare ora è su due livelli, cioè naturalmente rispetto agli orientamenti che sono stati prevalenti nell'opinione pubblica, oltre nella storiografia ma direi soprattutto nell'opinione pubblica e nel dibattito pubblico finora, appunto recuperare la dimensione storica della violenza del fascismo, sia nell'avvento al potere, sia poi soprattutto nell'esercizio del potere nella politica estera negli anni trenta. Quindi questo è quello che viene fatto, ad esempio la storiografia dagli anni novanta in poi ha affrontato tutti questi aspetti, le violenze, i crimini nelle colonie, in Libia piuttosto che in Etiopia, anche l'aspetto dello stesso antisemitismo fascista, che prima era considerato quasi un'espressione della volontà tedesca, che era una balla totale, era stata una scelta di Mussolini, tutta la questione poi dei crimini durante la seconda guerra mondiale, la mancata Norimberga italiana, che è uno dei temi che poi affronto anche nel libro, cioè questi aspetti della violenza del fascismo come caratteristica intrinseca vanno recuperati e la storiografia lo ha fatto. Poi un altro discorso è quello arrivato in televisione di tutto questo, magari poi lo direi. Poi c'è però un altro aspetto che nel tuo intervento veniva evocato e che dobbiamo fare conto anche con questo, è quell'aspetto che nella vulgata corrente dice il fascismo ha promesso le pensioni, faceva arrivare i treni in orario, che in alcuni casi è una balla, i treni in orario sappiamo che non era vero, i giornali non potevano dire se un treno aveva un ritardo, i treni avevano un ritardo ma non si poteva dire. Le pensioni li entriamo in un altro campo che è appunto, dobbiamo capirci perché gli inglesi usano un termine molto calzante in riferimento ai regimi totalitari e autoritari di massa del novecento, il termine è welfare dictatorship, tutti questi regimi dal nazismo al fascismo e questa storiografia inglese ci mette dentro anche il comunismo, sono delle dittature del welfare, cioè qualsiasi regime moderno del novecento non può non fare politiche sociali, quindi però chiaramente perché ha in mano le redini del potere, perché ha in mano le redini del lavoro, delle pensioni, dell'assistenza sociale, del dopolavoro, però è connaturato alla natura novecentesca moderna di questi regimi, non è espressione della loro bontà come viene ad esempio declinato in Italia, per cui se Mussolini ha dato le pensioni non è che dobbiamo applaudire Mussolini come molti diciamo in Italia sembrano propensi a fare, perché se quello è il metro di giudizio allora molto meglio Hitler, ha fatto delle autostrade meravigliose, ha dato degli asili nido fantastici ai biondi bambini tedeschi, in questo caso chi non era troppo biondo rischiava fuori, ma allora naturalmente da questo punto di vista il top è naturalmente Stalin che ha preso in mano un paese che era a livelli, oggi diremmo il terzo mondo, con tre piani quinquennali l'ha trasformato nel secondo o terza potenza industriale del tempo. Quindi secondo me anche rispetto al fascismo, a questa resa dei conti, dovremmo essere capaci di muoverci sui due livelli, cioè sia recuperare la dimensione della violenza fascista che è fondamentale, che è fondamentale, sia anche affrontare in maniera corretta, storicamente corretta, la dimensione della costruzione del consenso, delle politiche sociali, in quel lotto che dicevo prima, sono dittature welfare, non è che c'è da applaudire a una politica sociale piuttosto che a un'altra. I regimi sono sia violenza, sia costruzione del consenso attraverso il controllo delle redini del potere e attraverso delle politiche sociali che si possono esprimere e si sono espresse su più livelli, dalle politiche per la natalità, assistenza all'infanzia, alla scuola, tutto quello che conosciamo già. Sì, che poi alcune questioni erano relative anche allo stesso periodo storico da un punto di vista economico e quindi magari riguardavano anche paesi completamente diversi, ma nella stessa fase di sviluppo all'interno dello stesso contesto. Mi ricordo un libro fondamentale di Deanna Treves, in realtà che dimostrava che le politiche della natalità fascista non avevano sostanzialmente funzionato perché lo Stato italiano era una fase di transizione demografica e qualunque fosse stata la volontà di Mussolini e quella era la… quindi c'è anche questo aspetto. E poi insomma lo Stato sociale di Hitler è uno dei libri di Gonzali, è piuttosto discusso in certi versi, però che comunque è un elemento… Sì, in quel caso era uno Stato sociale che è costruito attraverso la politica di rapina della Seconda Guerra Mondiale. Mi ricordo ancora che c'era questa notazione dell'autore per cui Hitler, il regime nazista, aveva garantito alle famiglie dei soldati nazisti, non mi ricordo, tipo il 60% del salario che guadagnavano prima. Quando gli Stati Uniti, che erano il paese più ricco, erano arrivati a garantire credo proprio del 30%, ma tutto questo l'aveva fatto rapinando. Sì, l'aspetto di una rapina per il nazismo è interessante perché mantiene fino alla fine anche una scelta… tiene insomma anche la struttura sociale, rapinando… Sì, sì, tutta l'economia di guerra nazionalsocialista è basata sullo sfruttamento intenso dei popoli sottomessi. Compresa in questo ci sta anche l'uso e la manodopera italiana e degli internati militari italiani. Ecco, quella… mi hai toccato un punto importantissimo è quello dell'antisemitismo. Vi ricordo ormai una vita fa di un seminario con Collotti che è stato tra i primi in Italia a fare anche ricerche specifiche, poi giustamente le citi nel libro, ricerche specifiche sulla reale politica, cioè la reale messa in atto dei dispositivi delle leggi cosiddette razziali, razziste, razziali, che furono in realtà applicate in maniera sistematica fino ai più piccoli paesi, comuni, nell'università, nelle strutture, in maniera molto puntuale, contrapponendosi a quella frase che aveva detto De Felice che il fascismo era fuori dal cono d'ombra della Shoah. Ecco, questo aspetto qui è stato importantissimo da un punto di vista psicografico. 35 anni fa, diciamo che però a me sembra che per quanto sia entrato maggiormente nella discussione, il restauro anche del famoso discorso di Trieste, di Mussolini, in cui lo dice lui stesso che non ha copiato il nazionalsocialismo, mi sembra, non so se poi è un'impressione, che in questo aspetto non sia entrato in maniera così dirompente nella comunicazione mediale, nella narrazione di massa rispetto all'antisemitismo. No, hai ragione, perché qui noi abbiamo visto che la storiografia, non subito, con un bel ritardo, in genere si dice che dall'88 in poi, cioè dal cinquantesimo anniversario dell'introduzione delle leggi razzista e razziali, ha cominciato ad approfondire con attenzione le responsabilità vere italiane. Un punto l'hai detto tu benissimo, cioè se in genere si parla di una pubblica amministrazione italiana inefficiente, invece nel caso delle leggi razziali è come se è stata efficiente, è stata capillare nella sua applicazione. Quindi l'antisemitismo di Stato fascista è stato veramente efficace nel privare gli ebrei dei loro diritti e questa storiografia quindi ha indagato molto anche sulle origini proprio culturali interne dell'antisemitismo, il ruolo svolto dagli antropologi italiani, dagli etnografi, cioè tutta una serie di intellettuali del tempo che hanno dato manforte a Mussolini nella sua svolta razzista, che poi aveva anche una base fra l'altro biologica. Ecco, rispetto a questo, è che piano piano era cominciato a penetrare, perché io ad esempio un libro come La parola ebrea di Rosetta Loi, ma lo stesso film, se ci pensate, di Benigni, La vita è bella, che in genere anche a livello internazionale è stato preso nel bene e nel male come diciamo narrazione della Shoah, un modo nuovo appunto per alcuni, bello per altri invece molti l'hanno contestato di parlare della Shoah. In realtà il film di Benigni per i due terzi parla dell'Italia, parla delle leggi antisemite in Italia. Quindi anche lì questo discorso era cominciato a penetrare. E poi però qualcosa devo dire, sì sono d'accordo, è cambiato e io direi che uno degli effetti collaterali, forse indesiderati, della giornata della memoria. Cioè una volta introdotta la giornata della memoria nel duemila, che ha tantissimi meriti, però nella prassi celebrativa si è affermato che cosa? Cioè è tornato, perché non è che c'era già prima, è tornato a affermarsi l'immagine del bravo italiano Salvatore Debrei. Cioè la figura centrale per l'ASCA, la RAI che gli fa il servizio, milioni di telespettatori, per l'ASCA, Palatucci e tutti gli altri. Ma soprattutto per l'ASCA c'è uno studio di Emiliano Perra che è un italiano che studia e lavora in Gran Bretagna, che appunto ha preso per l'ASCA come emblema del modo di raccontare la Shoah in Italia. Quindi il Salvatore di Ebrei, che è figura importante, cioè non è che va ridimensionato, altri vanno ridimensionati, sono molto controversi, Palatucci è una figura molto controversa. Per l'ASCA è stato coraggioso, ha salvato un sacco di ebrei. Ecco, però di nuovo i riflettori, per così dire, delle ordine pubbliche sono tornati a concentrarsi sui meriti umanitari degli italiani piuttosto che appunto mettere, svelare invece la connivenza, la partecipazione anche alla persecuzione ebraica prima e dopo, perché non c'è solo appunto la persecuzione dei diritti, poi dopo il 43 c'è anche la persecuzione delle vite, dove insomma gli studi storici avevano rivelato che metà degli ebrei arrestati e poi finita ad Auschwitz sono stati arrestati a poliziotti italiani, su delatori, su delazioni italiane. Ecco, questa dimensione delle nostre responsabilità che la storiografia aveva meritoriamente messo in evidenza dall'88 in poi, mettiamola così, sono uscite, uso l'espressione usata dal cono d'ombra, sono rientrate in un cono d'ombra in questo caso, proprio perché ha prevalso nella comunicazione mediatica legata in gran parte appunto alla giornata alla memoria, ha prevalso questa dimensione degli italiani salvatori e ebrei, che non è l'unica, ovviamente non è l'unica che è emersa con la giornata alla memoria, ma è forse quella prevalente direi. Sì, questo aspetto, uno degli aspetti della giornata alla memoria è che ha riallontanato l'antisemitismo e la Shoah dai nostri territori. A proposito poi di Salvatori, mi veniva in mente quel libretto piuttosto feroce, scritto privato su Baccali di recente. In realtà poi, per quanto poi ci siano stati questi singoli casi, poi lo dici giustamente te e lo sottolinei perfettamente nel libro, non bisogna dimenticare l'aspetto fondamentale del cambiamento, del cambiamento oppure della scoperta delle origini che è la Repubblica Sociale Italiana, che diventa un mix, fa squadrismo e nazionalsocialismo nei suoi comportamenti reali, anche se poi avrà rapporti complessi con la... ma insomma, l'antisemitismo nella Repubblica Sociale Italiana è istituzionalizzato, insomma, è nella carta... Sì, ora c'è questo... diciamo, gli storici continuano a fare il loro mestiere, ora è uscito da poco, ce l'ho proprio qui, libro di Amedeo Osti Guerrazi, no? Gli specialisti dell'odio, che è un librone di 300-400 pagine che è frutto di una ricerca molto certosina degli archivi, che dimostra proprio il ruolo degli italiani, sia delle forze di polizia, ma anche, insomma, dell'italiano qualunque, il delatore. Quindi gli storici stanno continuando a fare il loro mestiere, anche bene, un po' il problema resta il discorso pubblico, cosa passa di queste ricerche nel discorso pubblico, nell'opinione pubblica. Sì, questo è uno dei problemi fondamentali, di cui abbiamo parlato anche nelle volte precedenti, che colpisce sempre la storiografia italiana, è una delle più avanzate, per certi versi forse anche la più avanzata, sul fascismo sicuramente ha scritto tantissimo, però molta di queste acquisizioni non entrano poi nella discussione che poi spesso viene ridotta, semplificata, anche in caso di De Felice, che ha citato te, è uno di questi. Però penso, per esempio, a chi aveva già affrontato anche il fascismo, a volte sembra davvero di scoprire l'acqua alta, ma insomma Littleton, nel 1975, aveva già compiuto una disamina complessa di un sistema che era appunto non monolitio, ma complesso, le sue articolazioni, i suoi scontri, e sembra tutte le volte si debba scoprire cose nuove da un punto di vista storiografico, sono già state, sono già state, erano già state dissodate, e non sono poi entrate in grandi meriti, appunto, che sono, il libro ha scritto te, è fondamentale per poi riuscire a entrare in circolo questo tipo di discussioni, ma non attecchiscono proprio perché, forse perché, proprio perché non credo di poter dare una risposta, ma di una visione del fascismo da parte italiana, che non è riuscita a inserire questo fenomeno storico nella propria storia, o è un'eccezione, o è una parentesi, o è un elemento eccezionale, o è una deviazione, ma non è ancora, oppure è stata modernizzazione, o i treni arrivano all'orario, ma non c'è un approccio, è un punto di tipo storico che vada a valutare, e purtroppo la storia è fatta anche di questi percorsi. E uno degli elementi che tocchi te fondamentali è quello dei criminali di guerra italiani, su cui c'è ancora meno discussione, anzi ce n'è quasi per nulla in Italia, se si pensa che è stato fatto un monumento a Graziani in un comune d'Italia con i soldi pubblici, è impressionante, se Germania facessero un monumento a Goebbels, voglio dire, qualcuno qualche parola la potrebbe dire. No, no, infatti questo è un altro tema importante, se pensi che, allora, la questione dei criminali di guerra italiani, intendendo con ciò non i fascisti di Salò che avevano commesso crimini contro i partigiani o contro i civili dal 43 al 45, quella è un'altra cosa. Mi sto riferendo a soldati italiani che si sono macchiati ai crimini di guerra dal 40 al 43. Ce n'erano più di mille nelle liste delle Nazioni Unite di criminali di guerra. Ebbene, questo tema è stato completamente assente, non dal dibattito pubblico, ma dalla storiografia, completamente, fino al 1999, quando uscì un articolo di uno storico, Richard Pankers, uno storico inglese, sui crimini commessi agli italiani in Etiopia. Quello, secondo me, aveva molto a che fare con il riconoscimento ufficiale nel febbraio del 96 da parte del Ministero della Difesa e degli esteri dell'utilizzo degli agenti chimici in Etiopia, che è stata l'unica breccia che si è aperta nel muro di protezione che le istituzioni italiane hanno sempre assicurato all'immagine del bravo italiano. Poi, insomma, magari si può anche ragionare, vi dico, come mai, secondo me, si è aperta quella breccia nel 96. È una questione che ha molto a che vedere con Montanelli e con l'uscita di Montanelli dai ranghi della destra a Berlusconiano. Vabbè, per ora, diciamo, torniamo al nostro argomento principale. Ecco, quindi solo nel 99 c'è uno storico inglese che parla dei criminali di guerra italiani e successivamente, mi devo prendere il merito perché sono stato io nel 2001 a scrivere, diciamo, la prima ricostruzione di questa vicenda della mancata Nuremberg italiana, che avevo trovato la documentazione del tutto casualmente, cioè seguendo una pista di una tesi di dottorato di un tedesco che a un certo punto citava un fondo documentario presso il Ministero degli Estri, insomma, mi sono imbattuto in questa documentazione. Quello che è importante, appunto, è che solo nel 2001 la storiografia smaschera questo tema, insomma, la mancata punizione criminale di guerra italiani. Nel momento, al momento, ci fu un grande interesse internazionale, a dire la verità, perché era il 2001 e il ritorno al potere di Berlusconi con elementi anche nel governo provenienti da partiti da N, dal movimento sociale, quindi della destra, che non aveva fatto, mettiamola così, conti completamente col fascismo. E ci fu un'attenzione molto forte della stampa internazionale. Io stesso sono stato intervistato, mi ricordo, dal Guardian, dalla BBC, da giornali tedeschi interessanti, i tedeschi che munitano gli italiani e sono preoccupati per lo stato della democrazia italiana, giornali olandesi, eccetera. E quindi lì ci fu una qualche, diciamo, di percussione anche nel dibattito pubblico, che però si chiuse molto rapidamente. Perché qui bisogna, mi sono chiesto anch'io, perché io, insomma, ho partecipato anche a documentari su questa, sui crimini, perché sono stati fatti, non è che non sono stati fatti. Però la rally mandava in onda dopo mezzanotte, oppure la mattina prima delle sette. Oppure, nel caso eclatante del documentario inglese Fascist Legacy, che è un documentario fatto dalla BBC nel 1989, acquistato dalla RAI, tradotto in italiano e mai mandato in onda. Allora qui cominciano a venire fuori un po' le questioni. Perché la RAI mandava in onda ai documentari sui crimini italiani a luna di notte e si è opposta alla messa in onda del documentario Fascist Legacy sui crimini italiani? Beh, per veti politici evidenti e più volte denunciati. Tanto per farvi un esempio, la reazione ufficiale italiana alla proiezione di Fascist Legacy in Inghilterra nell'89 fu una nota diplomatica di protesta inoltrata dalla Farnesina a Londra. Come dire, avete macchiato il buon nome dell'Italia, siamo paesi alleati e non ci provate più. Tra l'altro la BBC è un ente indipendente. Quindi, capite, c'era... la reazione è stata quella. Io... c'è stato anche un... quindi c'è una vigilanza, c'è una vigilanza istituzionale su questa questione, che è anche legata, parliamoci chiaro, c'è una questione dietro, che la conoscono molto bene i tedeschi e i giapponesi, cioè la questione degli indennizi. Perché se noi ammettiamo, parliamo dei nostri crimini, in qualche modo ammettiamo le nostre responsabilità, possono partire le class action delle vittime che chiedono indennizi, come noi, giustamente, i nostri internati militari li stanno richiedendo in vano, diciamo così, da anni alla Germania, o le comfort women, le donne coreane usate nei bordelli di guerra giapponesi, continuano a chiederle al Giappone. Lo stesso possono fare gli etiopi, i greci o i libici. Quindi questo non me lo invento io. Nel mio libro c'è un passaggio, perché è una cosa che riguarda anche il contenzioso italo-tedesco, anche la questione degli internati militari italiani, eccetera, di cui dedico un capitolo nel libro. Questa cosa, questo legame, lo dice esplicitamente, l'ha detto esplicitamente l'ex ministro degli esteri Frattini, in un'intervista del 2008. Il 2008 è l'anno cruciale negli scontri tra Italia e Germania sulle questioni relative al passato, perché lì convergono sia la questione, si uniscono, la questione dei criminali di guerra tedeschi, i processi criminali di guerra tedeschi che avevano, si erano ricominciati dopo Prip, che poi dopo il ritrovamento dell'armare della vergogna, e la questione degli internati militari italiani. Perché in sostanza nel 2008 la Corte di Cassazione italiana dà ragione ad alcuni tribunali italiani, fra cui quello di Firenze e quello di Arezzo, che avevano da un lato condannato la Germania a pagare, a risarcire i familiari delle vittime, ad esempio di Civitella Valdichiana e la strage di Civitella Valdichiana, e dall'altro lato avevano detto che andavano bene le sentenze emesse da alcuni tribunali italiani, che obbligavano la Germania a risarcire gli internati militari. Nel 2008, due giorni dopo questa sentenza della Cassazione, il Frattini va in Germania, rilascia un'intervista alla Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti giornali tedeschi, dove il giornalista gli chiede «Senta, ma lei è a favore o contrario alla sentenza della Cassazione?» Il Frattini dice «No, io sono contrario, sono contrario perché lei del principio dell'immunità dello Stato, che è la posizione rivendicata alla Germania». Dice «No, i nostri internati non hanno bisogno di 3.000 euro, che è la cifra prevista dalla legge di indennizzo tedesca, la cifra minima, piuttosto hanno bisogno di politica della memoria, di monumenti, che è una cosa che va bene, io non sono contrario, anzi, vanno fatte anche quelle». E poi la seconda parte dell'intervista è molto interessante, perché lì gli viene chiesto «Ma lei è contrario a questi indennizi in internati militari perché forse teme che le vittime del fascismo italiano in Jugoslavia possano fare lo stesso, avanzare alle stesse richieste all'Italia?» Risposta ai Frattini «Sì». Forse teme le analoghe richieste a parte dei libici e etiopi «Sì». Allora, io questa intervista non l'ho mai sentita smentita, cioè è lì, credo si trovi anche su internet, io la cito nel mio… capite che cosa c'è davvero dietro. E quindi questo spiega la cortina, diciamo, di protezione, che da un punto di vista la ragione di Stato si capisce, però è un bel problema per una libera discussione delle colpe italiane, dei crimini italiani. Io ho fatto anche un'altra esperienza, ora vi voglio dire, perché in realtà a un certo momento la Rai ha parlato in prima serata di queste cose. Lo ha fatto nel 2015, un programma di Tommaso Cerno, che era direttore dell'Espresso, poi è stato parlamentare, ora non so, non lo vedo più da un po', e lui aveva fatto questo programma e si intitolava «D-Day» e in prima serata, nove e un quarto su Rai 3, dedicò la prima parte di questa serata ai crimini italiani. Ricordo in studio c'era Gad Lerner, poi c'ero anch'io, si collegò Monio Vadia dall'esterno e mi ricordo in Monio Vadia a prime parole e disse «erano anni che aspettavo questo momento», momento in cui la Rai in prima serata parlasse appunto dei crimini di guerra. C'è stata una seconda volta l'anno dopo in cui la Rai ha fatto una cosa simile, una trasmissione a tempo presente sugli italiani brava gente, dove appunto sono andato in studio con la Michela Ponzani a parlare. Allora, io poi non sono stato più chiamato in Rai, non mi sono mai, non ho mai chiesto di andare. Vi confeso, mi è arrivata una voce proprio di recente, perché insomma ho qualcuno che invece ci lavora parecchio con la Rai, e mi hanno detto che non mi hanno più chiamato perché quella trasmissione lì, sugli italiani brava gente, non era piaciuta, pare sia uscito un articolo sulla verità o su un giornale alla destra che critica. Allora, capite quali sono le questioni in ballo e i problemi. Secondo me la televisione è uno dei canali più importanti per parlare al grande pubblico. Sì, è vero, c'è ora Facebook piuttosto che Twitter, tutti i social media, però ancora la televisione è secondo me il canale principale. E quindi lì ci sono ancora dei grossi problemi per appunto affrontare determinate questioni. Ma anche a livello politico, ne parlo anche nel libro, voglio aggiungere questo. Nel 2009, per la prima volta, un nostro ambasciatore, l'ambasciatore italiano in Grecia, che si chiama Giampaolo Scarante, si è recato a Domenicon, che è un paesino della Tessaglia, dove c'è stata una più terribili, diciamo, strage compiute da italiani contro greci. Quella è una vera e propria rappresaglia, cioè lì c'era stato, nel febbraio del 43, un attentato dei partigiani contro una colonna italiana. Erano morti nove soldati italiani. Giorno dopo è arrivata a divisione Quinerolo, ha bombardato questo villaggio, ha rastrellato tutti e hanno poi passato per le armi 145 greci, che sono 16 greci per ogni italiano caduto, se vogliamo fare un po' di contegno. Ebbene, siccome la questione è saltata fuori nel 2008, perché è stato fatto un documentario televisivo, fra l'altro da un regista di Firenze, Giovanni Don Francesco, si chiama La guerra sporca di Mussolini, questo documentario, molto bello, ha fatto molto bene. Allora, la cosa è un po' esplosa. E questo era il 2008, la TV greca, che ora non mi ricordo come si chiama, RTL, è una di quelle TV che poi è stata soppressa quando è arrivata la politica dell'austerity, i tagli imposti, l'avevano chiusa. Comunque, una delle TV più importanti della Grecia ha mandato in onda questo documentario. Al che l'anno dopo, 2009, l'ambasciatore Scalante è andato proprio lì, a Domenico, ha partecipato alle commemorazioni in ricordo della strage, ha chiesto scusa, espresso cordoglio, e lui è una persona squisita, io la conosco perché fra l'altro è un collega, adesso è in pensione, insegna, io insegno a Pado, insegna con me, nel mio dipartimento, lui è una persona squisita, però mi ha detto che intanto per andare lì ha dovuto superare un sacco di problemi, perché ad esempio il Ministero della Difesa non voleva, non voleva che lui andasse a Domenico, perché in questo modo rischiava di ledere il prestigio, l'onore dell'esercito italiano, e lui ci è andato lo stesso, però ecco questo suo gesto importante, ne sapete qualcosa voi? Nessun giornale italiano ne ha parlato, cioè volutamente è stato tenuto su un livello, su un low profile, basso profilo, c'è stato un comunicato ANSA, se voi andate ora su internet, su Google, lo trova scarante, mettete scarante, Domenico, vi verrà fuori il comunicato dell'ANSA, ma non vi vengono fuori articoli sui giornali, perché non ci sono stati, ecco insomma anche lì c'è questo problema insomma, di un paese che rilutta, e come se rilutta ad affrontare questi temi. Ora vediamo, perché sul caso di Domenico, ve lo segnalo, è uscito anche un bel libro di un giornalista che si chiama Vincenzo Sinapi, che è uscito proprio a gennaio per Murcia, editore Murcia, e ricostruisce tutta la vicenda, e che poi c'è anche un seguito giudiziario a questa questione. Ecco, questo era un po', tornato Andrea perché l'avevo perdita, sei tornato? Non ti vedevo più, infatti ero preoccupato, ma sto so. No ecco, chiudevo su questa cosa, ecco l'altro elemento, e qui parlando della mancata Nuremberg italiana, cioè la mancata punizione criminali di guerra italiani, vi ricordo che l'Italia rivendicò il diritto di processarli presso i propri tribunali, e c'è fu anche una commissione di inchiesta al Ministero della Guerra, che stilò una lista di 40 criminali di guerra italiani, secondo gli italiani, dove c'era il generale Roatta, Pizzo Birro, tutti questi generaloni, e in teoria l'Italia li avrebbe dovuti processare, anche se politicamente il problema era risolto, dopo la rottura fra Tito e Stalin nel giugno del 48, la Jugoslavia Tito era il principale accusatore italiano, l'Unione Sovietica era l'unica grande potenza che aveva sostenuto le ragioni jugoslave, dopo la rottura fra Tito e Stalin il problema politicamente era risolto, l'Italia avrebbe però dovuto processarli, perché erano già state fatte le indagini preliminari e tutto quanto. Si trovò un escamotage, un articolo del codice penale militare di guerra, il 165, che prevedeva la reciprocità, cioè diceva noi processiamo i nostri criminali di guerra se tu, Jugoslavia, processi i tuoi per che cosa? Per le foibe. Ora, chiaramente non era plausibile che Tito processasse i suoi, cioè i suoi sottoposti per le foibe, questo si sapeva, era un escamotage, e fu tutto chiuso. Nel 2008, per chiudere il discorso con questo anno un po' importante, ci sono successi un sacco di cose, qualcuno, un giudice militare, che Sergio Dini, anzi, ex giudice militare di Padova, Sergio Dini, ha provato a rilanciare la questione della punizione criminali di guerra italiana, ha fatto un esposto alla magistratura militare, è intervenuto sui giornali, e ha detto, cari signori, primo, come noi abbiamo ripreso a processare i tedeschi dopo Pripche, dovremmo processare i nostri, dal punto di vista etico-morale, dovremmo farlo perché sono colpevoli di crimini analoghi, ma soprattutto non esiste più l'articolo 165 del codice penale militare di guerra, quello della reciprocità, quello in base al quale il 51 tutto fu bloccato, perché c'è stata una riforma del codice nel 2002 e quest'articolo non c'è più, quindi lì si è aperta per poco una finestra per processare i criminali e i guerri italiani, che si è richiusa subito però, e che lì c'è stata un po' furbata, permettetemelo, il bravissimo giudice Antonino Intelisano, quello che aveva fatto il processo a Pripche e che in quel momento era al vertice della procura militare di Roma, ha aperto un'inchiesta contro i gnoti per i crimini di guerra italiana, fra l'altro prendendo un capo di imputazione articoli, cioè capo di imputazione molto blandi, tipo eccessi in rappresaglia, non ha preso l'articolo 185 e quello che prevede l'ergastolo, aveva preso intanto degli articoli che prevedevano al massimo qualche anno di carcere per gli eventuali responsabili e poi cosa ha fatto? Si è preso la lista dei 49 quella di cui vi avevo parlato, che è una lista però che era stata compilata nel 48 che riguardava generali come Roata che già allora avevano 50 anni e chiaramente erano tutti morti negli anni 70 ma l'ultimo mi sembra negli anni 80 e ho detto c'è più nessuno sono tutti morti quindi dice io ho fatto il mio dovere ho verificato sono tutti morti allora questo per dire concludo che lo sto facendo lungo però è interessante perché l'Italia è l'unico paese del patto tripartito cioè insieme a Giappone e la Germania quelli paesi hanno scatenato la guerra ad averla fatta franca cioè non aver processato i suoi è riuscita a non farseli processare a non processarli lei e ma da questo punto di vista abbiamo un primato assoluto perché ad esempio i francesi hanno fatto alcuni processi siamo stati ancora più così capaci più bravi dei francesi a proteggere completamente i nostri criminali mi sto riferendo per la Francia a due processi importantissimi contro Paul Tuvier e Maurice Papon collaborazionisti di Vichy fatti negli anni 90 cioè Papon era un pezzo d'anno 90 è stato ministro era il capo della polizia di Parigi quando ci fu la repressione degli algerini nel 61 con decine i morti e insomma questo era stato parlamentare tutto qua ministro parlamentare capo della polizia è stato processato e condannato negli anni 90 in un processo che ovviamente ha attirato molto l'attenzione dei francesi perché questo la funzione di un processo per il discorso che facciamo noi perché insiste tanto sul processo perché se se si fosse fatto un processo a un criminale guerra italiano l'attenzione dell'Uprima Repubblica gioco forza convergeva lì contrari favorevoli quello che volete ma non si poteva mettere sotto il tappeto una cosa del genere ebbene noi finora ce l'abbiamo fatta e ormai per motivi anagrafici ovviamente non è più possibile processare nessuno degli italiani tra l'altro l'ultimo che era sotto inchiesta era un aviatore italiano responsabile dei bombardamenti di Barcellona quindi che è morto nel 2016 a 103 anni insomma è morto non so bene quali responsabilità avessi avuto perché appunto non è stato mai processato però quando è morto mi sembra era di Brescia lui ora mi scordo il nome non mi viene il nome la sua città gli ha fatto dei titoloni l'hanno presentato come un eroe di guerra e insomma questa è un po' la triste storia diciamo dei criminali di guerra italiana è una questione veramente impressionante perché poi voglio dire sono tanti aspetti sicuramente l'armatura della vergogna i rapporti geopolitici e la guerra fredda per carità però c'è anche una specificità italiana nella continuità dello Stato anche morti quelli che gestivano il potere durante il fascismo e hanno traslato nella Repubblica ma questa continuità è proseguita anche dopo facendo come dicevi giustamente la mancata Norimberga ma anche il mancato rinascimento creando poi una distorsione nella una specie di storia controfattuale che hanno portato poi a quella a quella legge sul giorno di ricordo che capovolge praticamente non solo i fatti storici ma il senso stesso cioè mi ricordo che negli anni 90 venne fuori il caso famosissimo all'epoca farosissima oggi forse non sono ricordato con nessuno della lettera di Togliatti manipolata poi da un famoso storico che insomma lì fu Giulietto Chiesa poi andrò in Russia e ritrovolo originale però anche lì era curioso si discuteva di soldati italiani uno la domanda ma che ci faceva un'orruzione non l'aveva invitata l'ufficio del turismo cioè questo aspetto è interessante perché le foibe è ovviamente un momento drammatico della storia uno dei tanti momenti drammatici tutta una storia devastante ma così come è stata la raccontata e te lo descrivi perfettamente e viene sganciata proprio anche istituzionalmente purtroppo a livello istituzionalità addirittura legando rapporti con le politiche precedenti e le azioni di invasione da parte dell'Italia cioè noi non ci si raffigurano come un esercito di invasori certo ora la cosa è ancora diciamo più preoccupante perché come sappiamo chi prova a contestualizzare quel fenomeno non per negarlo ma appunto per contestualizzarlo storicamente per comprenderlo e quindi fa riferimento alle politiche di oppressione contro le minoranze slovene e croate del regime fascista e poi all'occupazione italiana della Jugoslavia nel 41 e ai crimini che sono stati commesi ebbene chi diciamo imposta un discorso di questo genere viene considerato un riduzionista e come sappiamo purtroppo è in discussione al Senato fra pochi giorni andrà in discussione al Senato un disegno di legge presentato da Fratelli d'Italia che propone l'estensione della legislazione antinegazionista prevista per la Shoah anche alle foibe per cui eh quell'incauto storico che prova a fare il suo mestiere e magari intanto dice che le morti e le foibe sono stati sì migliaia ma quattro cinquemila circa e non dodicimila o molti di più come viene affermato diciamo da chi sostiene chi ha sostenuto Giorno e Ricordo ebbene quello storico eh potremmo fare anche un nome che tutti conosciamo però non lo voglio dire beh Gobetti è un amico alle spalle larghe spero ecco potrebbe ma Gobetti oppure un altro molto più moderato perché Pupo Raul Pupo ecco rischiano rischierebbero addirittura degli anni di carcere ecco quindi questa è una cosa molto grave sì era era anche giusto doveroso affrontare quella tragedia cioè la tragedia delle foibe e la tragedia degli italiani espulsi dall'Isa e dalla Dalmazia lo si è fatto però introducendo una nuova giornata celebrativa appunto quella del giorno del ricordo che è connotata da una memoria di parte cioè si è fatta una memoria di parte che è quella dell'ultradestra per capirsi è stata trasformata in una memoria nazionale e qui c'è un problema grosso perché intanto c'è un problema anche di relazioni con gli stati vicini perché c'è un aspetto in tutto questo di cui non si parla io vi accenno nel mio libro e cioè la dimensione politico-diplomatica non c'è il discorso sulle foibe non nasce da sé negli anni 90 all'inizio degli anni 2000 non è solo un discorso diciamo una memoria ideologica e chiaramente una memoria anche con forti connotati ideologici ma sta alle spalle anche una questione molto molto più rilevante quando la Jugoslavia implode all'inizio degli anni 90 la destra italiana il movimento sociale dice che gli accordi di Osimo non valgono più cioè gli accordi che nel 75 gli accordi siglati fra Italia e Jugoslavia che avevano regolato la questione del confine orientale secondo la destra italiana non valgono più perché la Jugoslavia non esiste più ci sono al suo posto altri stati altri soggetti statuari c'è la Slovenia c'è la Croazia c'è la Serbia e allora la destra italiana chiede di riaprire la questione confine orientale pone anche una questione territoriale cioè c'è un neo-irredentismo tant'è che la Slovenia viene l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea viene bloccato dal primo governo Berlusconi e deve intervenire Clinton affinché poi nel 96 il governo italiano a quel punto c'è Prodi tolga il veto all'ingresso della Slovenia in Europa perché l'Italia ha provato il governo di centro-destra e Berlusconi ha provato a condizionare l'ingresso della Slovenia in Europa a una serie di questioni politiche relative ai beni patrimoniali degli italiani espulsi ma dietro addirittura c'era chi diceva dobbiamo rimettere in questione i confini e ci riprendiamo l'Istria perché si parla di questo ragazzi allora capite bene che quando incautamente non lo so quale avverbe usare quando diciamo incautamente il Giorgio Napolitano presidente Napolitano alla sua prima uscita nel 2007 fa un discorso per il giorno in ricordo intriso di umori nazionalistici che parla di furia eliminazionista degli slavi contro gli italiani c'è una crisi diplomatica immediata il presidente croato soprattutto e anche quello sloveno reagiscono duramente dicendo non c'è spazio per il revancismo non è corretta no no attenzione loro vedono subito cosa ci sta dietro non c'è spazio per il revancismo italiano e fortunatamente meritoriamente Napolitano fa una virata molto importante e cambia completamente atteggiamento tant'è che nel 2010 prova a trasformare quella memoria delle foibe ultranazionalista contrappositiva eccetera in una memoria europea riconciliata e come fa in occasione del concetto per la pace luglio 2010 piazza unità d'italia a trieste guidato diretto scusate da muti con un'orchestra fatta da italiani croati e sloveni fa un doppio gesto la mattina insieme ai colleghi al presidente sloveno presidente croato va prima a rendere omaggio alla targa che ricordano Rodney Dom la casa del popolo sloveno è andata alle fiamme dei fascisti nel 20 e poi insieme i tre presidenti vanno a rendere omaggio al monumento che ricorda il dramma degli italiani espulsi e inaugura un filone che poi culmina col gesto di mattarella dell'anno scorso quando è andato a trieste insieme al presidente sloveno solo il presidente sloveno non quello croato e sono andate prima a Basovizza quella famosa cosa abbiamo visto sui telegiornali si tenevano per mano prima a Basovizza poi lì accanto c'è il monumento che ricorda la fucilazione di quattro sloveni condannati al tribunale speciale fascista e poi sono andati a Trieste e lì c'è stata la cerimonia di consegna alla comunità slovena del Narodni Dom quindi tutto questo per costruire appunto una memoria europea riconciliata però insomma gli umori che circolano ancora cioè questa è una memoria ancora molto contesa cioè ci sono due due possibili uscite cioè o appunto si va verso questa questa memoria europea riconciliata che è basata sull'assunzione di responsabilità delle parti in questione italiani isomani croati diciamo delle colpe passate guardando al futuro a un futuro di collaborazione insieme oppure oppure si alimenta la memoria ideologica anticomunista ultranazionalista che delle foibe che è cara alla destra italiana nelle sue varie fogge eh questo è un aspetto diciamo abbastanza significativo pensando che insomma voglio dire l'Italia non è stata una vittima della della seconda guerra mondiale questo aspetto a me colpisce sempre si pensa se uno pensa a milioni di tedeschi buttati fuori dalle 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 dei territori dove ci furono anche tantissimi morti ma nessuno in Germania penserebbe di fare un giorno di ricordo per gli espulsi succederebbe l'ira di Dio come sarebbe giusto però per come sarebbe giusto in Germania e la visione che è diffusa in Italia purtroppo come specificato te che ha anche responsabilità molto elevata dal punto di vista istituzionale anche la legge che istituisce il giorno di ricordo per fortuna se si è riuscito ad aggiungere quella si riuscì ad aggiungere quella postilla sulle più ampie vicende del confine orientale per riuscire perlomeno a dare un minimo di contestualizzazione storia rimane il fatto che in Italia abbiamo giornate in cui sostanzialmente noi siamo le vittime ecco questo è un aspetto questo proposito una cosa importante da dire perché allora nel 2006 ci fu un tentativo in Parlamento da parte delle sinistre comunisti italiani rifondazione comunista di introdurre delle giornate in memoria delle vittime del fascismo c'era una proposta di Jacopo Venier che era un deputato triestino fra l'altro dei comunisti italiani di introdurre una giornata in ricordo delle vittime del colonialismo italiano e poi un'altra proposta invece a ridosso un mese dopo mi sembra di introdurre una giornata in ricordo delle vittime del fascismo tu cur quelle due proposte non se le è filate nessuno non hanno fatto neanche un metro in Parlamento e invece ovviamente abbiamo ora molte giornate dedicate agli italiani come vittime da ora noi abbiamo abbiamo parlato della giornata della Shoah dove sono compresi non solo le vittime ebrei ma anche gli internati militari e i deportati politici c'è la giornata in ricordo ma poi abbiamo tutta una serie di giornate il calendario civile italiano è esploso abbiamo giornate in ricordo degli italiani vittime delle missioni all'estero abbiamo giustamente il calendario dedicato alle vittime del terrorismo diciamo delle guerre interne della Repubblica del terrorismo della lotta alla mafia tutte cose vanno benissimo ecco però ancora non siamo riusciti e non so se riusciremo mai quest'anno qualcuno l'ha riproposto mi sembra non siamo riusciti a darci una giornata in cui ricordare le vittime che abbiamo fatto non noi stessi nei panni della vittima ma appunto le vittime dei perpetratori italiani sì tra l'altro quello a me colpisce sempre in questa in questa ricostruzione giustamente che poi ha elementi ovviamente legati alla politica ai rapporti fra gli stati e poi come giustamente ha fatto presente anche più prosaici anche interessi economici perché poi anche i risarcimento poi alla fine è come insomma le cifre poi hanno dimostrato ad essere anche piuttosto corpose anche nei confronti della Germania c'è questo aspetto della diciamo della sottovalutazione però per l'Italia è ancora più più pesante questa questa per quanto la Germania abbia avuto tutta una serie di problemi anche rilevanti fino agli anni 60 insomma anche loro insomma hanno avuto la loro continuità ma poi sono riusciti perlomeno sul piano istituzionale a con enormi difficoltà ma a passare citi giustamente anche l'istorica strides 86 87 la grande discussione che da noi è anche mancata ma da noi non c'è questa io ho detto giustamente il giorno della deportazione a parte il fatto e giustamente sono d'accordissimo con te quando dici forse era bene come è data in Italia proporre anche quella della deportazione da ghetto ebraico in cui appunto l'intervento è non solo dei tedeschi ma con l'aiuto fondamentale degli italiani anche delle normative ma io penso anche alla deportazione politica a Montelupo dove abito io insomma è stata soggetta a deportazione dopo il scioprire l'otto marzo e lì tedeschi e qui i tedeschi non si sono visti la deportazione è stata messa in atto direttamente dai fascisti con le autorità locali quindi con quella violenza che è fondamentale perché se si leva se si stacca per l'aspetto violento dal regime dalla nascita e dalla continuazione del regime fascista si elimina un pezzo fondamentale con cui forse noi secondo me quest'anno c'è stato il centenario di fatti tempoli e nella discussione politica sembra di essere nel 22 invece nel 2021 per come viene affrontata ecco si si è perfettamente ragione allora mi iscrive Simone dicendo se sarebbe giunto il momento anche delle domande da parte di chi ci sta seguendo capiamo che questa modalità online per quanto sia estremamente comoda per lo meno per me che sono piuttosto figro e comoda magari le persone ora cominciano un po' a stancarsi e magari visto che il coprifuo si sta allentando forse fanno più tardi però se ci fosse qualcuno che propone qualche qualche domanda nel frattempo proprio per entrare in una questione anche ancora complessa che è quella del ruolo dello storico che non è quella mi ricordo Salvatore Lupo ha imposto una volta dice guardate lo storio di mestiere non fa il pacificatore può darsi che magari riaccenda anche questi perché non è esso mestiere anche la discussione su questa memoria o un divisa che dovrebbe fare in realtà può alla fine morire un divisa da qualche parte deve tagliare e mi è molto interessato il capitolo dedicato alla questione di Cefalonia che secondo me è molto importante e tra l'altro io ho anche un pensiero di un errore gravissimo che ho fatto diversi anni fa quando invitiamo Pampaloni a Montelupo e non abbiamo registrato la testimonianza che era una dell'ultima che poi morì mi sembra l'anno dopo quindi ci manca mi manca questo aspetto in cui lui parla anche di questa vicenda quel bloc è veramente interessante come l'ha affrontata e come ha ristruito anche la discussione storica Sì Cefalonia appunto c'è un capitolo dedicato alle stagioni della memoria di Cefalonia ma in realtà c'è stata tutta una retorica dopo Cefalonia è stata riscoperta tra virgolette da Ciampi viaggio nel 2001 per cui oggi sicuramente Cefalonia è uno dei luoghi della memoria resistenza italiana tant'è che lo stesso Napolitano appena entrato al Quirinale è andato a visitare Cefalonia anche lui però c'è stata tutta una polemica una retorica la cosiddetta retorica dell'oblio non si è mai parlato di Cefalonia le sinistre non volevano parlare di Cefalonia perché volevano solo parlare dei partigiani non è vero nulla Cefalonia è uno dei luoghi della memoria uno degli episodi della memoria della resistenza canonici per le sinistre come per diciamo per i partiti moderati antifascisti cioè nel 45 tutti i giornali di ogni orientamento politico parlano di Cefalonia compresi comunisti e socialisti che continuano a farlo anche successivamente questo perché c'è una lettura unitaria della resistenza che regge che regge molto bene fino alla guerra fredda e poi non scompare entra in crisi la guerra fredda ma non scompare dove l'idea è quella di valorizzare per così dire tutti gli sforzi fatti dal popolo italiano sia quando quel popolo aveva la divisa sia quando invece non aveva la divisa nella lotta contro la Germania per due motivi un motivo politico che era quello di rivendicare il diritto dell'Italia ad una pace non punitiva che era una promessa che avevano fatto gli alleati nel libro insomma lo spiego e dall'altro lato perché era vero perché Nenne aveva la figlia morta in un campo di concentramento perché la classe dirigente antifascista in tutte le sue componenti aveva partecipato a quella lotta c'è il sangue era stato versato e quindi insomma Cefalonia in realtà era fin dall'inizio uno dei luoghi della memoria importanti dell'Italia poi certamente negli anni della guerra fredda le sinistre sottolinano più l'impegno dei partigiani piuttosto dei militari ma non scompare cioè fra l'altro le sinistre sono molto come dire affezionate al cosiddetto referendum che fa la divisione acqui quando a un certo momento devono decidere cosa fare se diciamo subire l'ultimato un tedesco cedere le armi o combattere e quello viene anche un po' enfaticamente presentato a una sorta di primo referendum democratico dell'esercito italiano ad esempio ne parlava in maniera struggente pertini presidente della camera cioè prima ancora di diventare presidente della repubblica quindi in realtà c'è sempre stato un legato certo che poi negli anni 90 con la riscoperta degli internati militari c'è anche la riscoperta di cefalone effettivamente che con Ciampi diventa un luogo fondamentale e lì si innesca però tutto l'attacco del revisionismo cioè da Sergio Romano l'editorialista dei Corriere e la Sera ex ambasciatore che scrive delle cose terribili su ad esempio su Gandin su generale Gandin che lui e anche sui diciamo sui soldati italiani hanno deciso di resistere e così c'è tutta una pubblicistica molto vicina al neofascismo direi che considera quei soldati italiani degli ammutinati che dice che i tedeschi hanno sostanzialmente giustifica il comportamento tedesco e la strage compiuta dai tedeschi insomma queste sono cose parecchio insomma parecchio gravi e io cerco un po' di mettere a fuoco queste vicende nel libro c'è un l'ultima questione che può essere interessante ve la ricordo è la è la questione dei numeri perché molte delle polemiche contro cefalonia si aggrappano alla questione dei numeri perché effettivamente per tanti anni si parlava di 8.000 9.000 10.000 morti che erano numeri enormi cioè non era non corrispondevano alla verità i numeri plausibili che il numero esatto non si sa nemmeno ora sono queste cose non si possono però si parla di almeno 2.500 italiani trucidati ebbene signori 2005 benissimo resta la più grande strage compiuta da tedeschi in esecuzione di ordini criminali riconosciuti come tali dalla storiografia tedesca io mi sono anche arrabbiato una volta a Padova perché noi abbiamo fatto varie iniziative su cefalonia collaboro molto con la divisione con l'associazione familiare divisione Acqui mi ricordo che facemmo una mostra facemmo un convegno e alla fine questo convegno in sala avevo due persone due diciamo chiamiamoli revisionisti che intervennero dicendo ah ma gli italiani i tedeschi avevano il diritto di uccidere gli italiani io ho trasecolato sono calmo li mencavolai e gli dico ma come come fate a dire una cosa del genere se c'è uno storico tedesco che è Gerhard Schreiber che era un ufficiale della marina tedesca quindi un militare tedesco che ha dimostrato in maniera inequivocabile che quegli ordini erano degli ordini criminali che andavano contro il diritto internazionale gli ordini di Italia e di sterminare gli italiani e voi mi veniva anche da dire voi italiani ora ci venite qua a dire che hanno fatto fatto bene non lo dite ma insomma che è giustificato il comportamento dei tedeschi e insomma quindi su Cefalonia sì anch'io sono basta se ce l'ho a cuore questa cosa perché è una è una cosa importante tra l'altro il fratello di mia nonna è stato fucilato dai tedeschi non a Cefalonia ma a Rodi e insomma però è una vicenda che è lì vicina ecco è arrivata una c'è una domanda che dice la stura al tema delle foibe venne data credo violante e fini a un discorso sulla memoria non divisa la verità di Trieste del 1298 sì allora diciamo la stura non so se è proprio la stura perché la questione delle foibe era stata rilanciata all'inizio degli anni 90 dalla destra in realtà dopo il processo per la riserva di San Sabba che è degli anni 70 la destra triestina ritirò fuori la questione delle foibe e da Trieste poi è passata diciamo sul piano nazionale soprattutto all'inizio degli anni 90 con la richiesta di aprire i processi contro i responsabili delle foibe in quell'occasione quindi diciamo la questione era già era già partita prima di violante tant'è che per in qualche modo frenare questa richiesta di diciamo procedimento giudiziario a carico dei responsabili delle foibe fu Beniamino Andreatta e alcuni funzionari del ministero degli esteri a lui legati che proposero di istituire due commissioni bilaterali di storici per approfondire appunto la questione del confino orientale dei crimini e dall'inacqua infatti la commissione italo-slovena nel 93 che ha lavorato al 93 al 2000 mentre con i croati la cosa non è andata invece la commissione italo-slovena sì quindi diciamo c'è un'incubazione della questione che è precedente al discorso all'incontro di Trieste mi ricordo molto bene fra Violante e Fini devo dire però che sono in gran parte d'accordo con lei che quell'incontro fra Violante e Fini rilanciò la questione delle foibe ricordo anche che poi cos'erano era ancora PDS o DS nel 2004 votarono a favore della legge l'unica solo rifondazione comunisti italiani votarono contro la legge e quel voto favorevole dei democratici e la sinistra aveva le sue origini in questo dialogo fra Violante e Fini ora sull'opportunità della legge non voglio entrare di sicuro quello che mi ha colpito a lungo è stato lo schiacciamento chiamiamola della sinistra riformista moderata sulla vulgata delle foibe che è la vulgata e la destra questo è sconcertante secondo me perché secondo me potevi anche votare per la legge io non l'avrei votato perché il 10 febbraio cioè prendere il 10 febbraio che è il giorno della firma del trattato di pace come appunto data della regione delle foibe è assecondare la lettura neofascista del trattato di pace come una punizione ingiustificata dell'Italia voluta dagli alleati considerati ancora veri nemici dell'Italia che ci avrebbero puniti ma che concetto ci hanno punito ma per la guerra fatta a Mussolini ragazzi ma di cosa parliamo tant'è che gli sloveni non a caso hanno fatto anche loro una loro giornata alla memoria il 15 settembre che è il giorno in cui entra in vigore il trattato di pace ma per loro è il giorno della liberazione allora andiamo su un piano di scontro e quindi c'è una c'è una questione sì violante lì c'era un po' rientra in quel come dire quel dialogo aperto iniziato col discorso di insediamento nel maggio del 96 alla presidenza della camera nel discorso famoso sui ragazzi di Salò e proseguito anche appunto rispetto ai temi delle foibe del confino orientale che è un dialogo per me cioè si può anche fare un dialogo però bisogna in qualche modo tenere le nostre posizioni non so come dire lì c'è sta un po' troppo scedimento se mi permette sì sono d'accordissimo soprattutto ora c'è la domanda secondo a mio parere questo utilizzo occasionalistico della storia è sempre pericoloso era passata la domanda non la leggo più allora sì vuole fare il prossimo anno il 22 ottobre il 22 ci sarà centenaria la marcia di Roma in quale modo gli antifascisti devono arrivare a fronteggiare al meglio inevitabili celebrazioni destrofasciste faranno come fronteggiare al meglio ma intanto questa celebrazione non ci dovrebbero essere molto semplicemente io direi insomma vigilare perché ci sono delle leggi se questi in occasione della marcia su Roma celebrano insomma le nostre leggi per quanto imperfette la mancino piuttosto come si chiama la scelba precedente che diciamo sono applicabili laddove si prefiguri la ricostituzione del partito fascista forse dovrebbero essere come di in questo in questo caso dovrebbero essere applicate perché è chiaro successe qualcosa di simile ora mi viene in mente confini nel negli anni novanta e novantadue infatti questo fu notato no? che novantadue diciamo il movimento sociale aveva celebrato la ricorrenza la marcia su Roma appunto con le celebrazioni con il braccio teso eccetera e poi invece un paio d'anni dopo Fini dicevano ora cambiamo tutto dobbiamo essere post fascisti e qualcuno notò questa qui c'è un problema ora non sto rispondendo alla sua domanda ma mi viene da riflettere fare una riflessione un pochino più generale sulla destra italiana perché quel Fini che anch'io avevo criticato mi ricordo anche pubblicare il mio primo libro era La guerra e la memoria ero molto critici che uscì nel 2005 però l'avevo scritto nel 2004 e e mi ricordo che ha una presentazione a Pordenone io lì ero molto critico su Fini che aveva fatto ammenda ma in che modo andando allo Yad Vashem sostanzialmente aveva fatto ammenda solo rispetto all'antisemitismo no? lì e e mi ricordo che ebbi un confronto con un c'era un ragazzo un giovane perché era giovane molto elegantissimo in prima fila che poi avevo era si qualificò come era un consigliere provinciale di AN il quale alla fine la mia presentazione venne lì dice guardi professor Focati lei si sbaglia perché noi stiamo facendo sul serio lui era un finiano cioè noi la resa dei conti con il nostro passato fascista la stiamo facendo davvero effettivamente Fini l'ha fatta perché a un certo momento ha detto io condanno il fascismo come dittatura oggi diremmo senza se senza ma qual è il problema è che è rimasto solo che fine ha fatto Fini l'hanno abbandonato ma su questo su questo tema sul rapporto col fascismo prima si è staccata Alessandra Mussolini ma poi tutti gli altri allora noi abbiamo una destra ora che non è quella che aveva sognato Fini una destra conservatrice moderna abbiamo una destra con queste istanze populiste sovraniste in cui i legami col passato fascista ci sono cioè la mancata resa dei conti un problema di mancata resa dei conti ce l'ha tutto il paese in generale ma in particolare ce l'ha questa destra mi ha colpito molto un articolo di Marco Tarchi due giorni fa tre giorni fa su Domani Marco Tarchi sapete viene da quell'area un intellettuale molto bravo molto importante che viene da quell'area e a proposito adesso della proposta di federazione fra la Lega Forza Italia con l'idea di un soggetto di destra moderato ho detto ma dove è moderato Marco Tarchi ha detto ma la destra italiana dobbiamo fare conti con quello che è oggi il 40% quant'è insomma nell'espressione di voto è una destra con determinate caratteristiche sono populiste non ha una destra moderata liberale allora tutto questo per tornare alla sua domanda mi preoccupa allora forse alla luce di quello appena detto sono un po' preoccupato perché se il trend e il trend dei consensi si potrà tradurre anche in un trend elettorale l'anno prossimo rischiamo di trovare in un clima politico culturale che potrebbe dire incentivare consentire manifestazioni appunto di commemorative nostalgiche di un certo tipo noi cerchiamo di fare il nostro mestiere e di andare avanti così certo non non è facile ora io faccio anche direttore scientifico dell'istituto Parri e ad esempio noi abbiamo un progetto importante coordinato da Giulia Albanese sui luoghi della memoria del fascismo in Italia e quindi andiamo a vedere quelle strade o anche quei luoghi che possono essere anche tipo Trespiano a Firenze dove ci sono delle che sono luoghi diciamo che la destra utilizza oggi per determinate celebrazioni di taglio nostalgico faremo uscirà un libro ci saranno ci sarà un database ci saranno iniziative proprio diciamo culturali cerchiamo di fare qualcosa non è che siamo fermi un'altra cosa forse la conoscete a proposito dei crimini italiani avrete visto la mostra a ferro e fuoco dell'occupazione italiana della Jugoslavia che è un'iniziativa dell'istituto della resistenza di Trieste con il nazionale è una cosa molto importante cioè ha avuto degli effetti io so che nei primi tre giorni è stata inaugurata il 6 aprile nei primi tre giorni aveva già avuto 18.000 visitatori ma veri non non click i click erano 178.000 nei primi quindi e lì c'è stato un sono usciti articoli sui giornali poi ci sono stato dietro io questo lo so l'articolo di Simonetta Fiore il paginone sulla repubblica di Simonetta Fiore ed altre cose del genere quindi si può fare anche un'azione diciamo politico-culturale incisiva secondo me non è possibile così come mi sembra ad esempio il caso del libro di Gobetti che forse non so avete presentato anche in questa eh lì noi ci siamo abbiamo parlato anche noi ad esempio col Parri e lì c'era stata un po' una provocazione mi ricordo di che ti aveva detto eh ma infonsi un libro bene ottimo però non è che ci diciamo ce li diciamo sempre fra di noi cioè questo libro ha successo fra gli istituti della resistenza fra le sezioni ampi eccetera eccetera ma non va al di là io lì mi sono permesso di essere più più ottimista perché ad esempio ho visto una intervista concessa a Gobetti su Panorama quindi settimanale della destra che gli ha dato quattro cinque pagine in cui Gobetti ha detto tutte le sue cose senza nessuna censura cioè quindi un certo eh diciamo pubblico di lettori di di destra abituato a sentirsi parlare delle forme avrà letto che diciamo un'altra campana quanto o meno quindi ecco ci sono dei segnali così come a me ha stupito non so se l'avete notato anche voi eh la frase di Draghi per il 25 aprile quando è andato a visitare il museo di oddio a Roma e eh insomma quando sono ucciso dice noi non siamo dobbiamo ricordare che non siamo stati sempre brava gente è una frase buttata là intanto l'hanno riportata a tutti i telegiornali e potrebbe ora non so chi scrive i discorsi a Draghi perché lì c'è il ghostwriter so che sia probabilmente un ghostwriter che giorni prima forse si era letto qualche articolo della Simonetta Fiori e forse si era visitato la mostra o si sto fantasticando ma non è improbabile si era visto la mostra sul appunto sull'occupazione italiana e Jugoslavia chiaro ora se è solo una frase pronunciata in quel momento e diciamo e non segue niente ha scarso valore però ecco ho colto questo segnale di un una dichiarazione del premier in un'occasione ufficiale che per la prima volta ha detto una appunto una frase diciamo che ha un significato che va contro la raffigurazione edulcorata degli italiani di cui abbiamo parlato all'inizio e beh comunque prepariamoci so che uscirà un volume che conterrà i discorsi di Mussolini la Feltrinelli sta preparando un volume che però è un discorso un volume che diciamo andrà a a toccare il nervo scoperto che è il nazionalismo perché questo forse è l'elemento più preoccupante cioè il neonazionalismo italiano che che ha il suo corrispettivo ovviamente in Europa prendiamo i governi ungheresi o polacchi c'è questa noi l'abbiamo già è una cosa viene da lontano già negli anni novanta si è tornato a parlare in quel caso di patria il neopatriottismo eccetera adesso invece siamo a un neonazionalismo e allora la resa dei conti col fascismo non è solo secondo me da fare rispetto al regime fascista ma una resa dei conti col regime fascista in quanto espressione chiamiamolo dell'ultranazionalismo italiano con una dimensione anche razzista che tra l'altro è presente anche nel nuovo nazionalismo diciamo odierno e quindi quella è un'altra grande questione perché per molti sembra quasi che ora la carta nazionale nazionalista sia la soluzione dei mali italiani e invece insomma uno sguardo da storici retrospettivo appunto dal fascismo ad oggi che faccia i conti più in generale con il retaggio mettiamola così l'eredità del nazionalismo italiano potrebbe essere una bella sfida sposta complessa e articolata ecco c'è un'altra domanda la svolta di Chianciano voluta da fine è stata superata dalla nascita dei fratelli d'Italia che ha voluto uno suo simbolo la fiamma triolo del movimento sociale italiano per dare continuità storica con quell'esperienza eh sì era un po' il problema che avevamo detto prima delle caratteristiche della destra in italiano odierno cioè qui il punto è che fini quella fiamma alla fine l'aveva anche spenta però è scomparso non mi ricordo neanche più come si chiamava l'ultimo movimento politico che aveva creato futuro e libertà qualcosa del genere si era alleato con Monti a un certo punto non vi ricordate cioè quell'evoluzione che lo aveva promesso di fare trasformare quel suo partito politico e l'attore politico in un un attore politico della diciamo liberal democratico conservatore liberal conservatore l'aveva fatta il punto è che è scomparso e ora è rimasto sono rimasti quelli che già lo criticavano allora cioè mi ricordo che quando lui fece la dichiarazione condannò il fascismo siamo nel 2006 circa quando era presidente della camera se non sbaglio quindi il passo avanti rispetto alla condanna esclusivamente delle leggi razziali dopo disse no io condanno tutto tutta esperienza del fascismo compresa la repubblica sociale attenzione che è un altro ancoraggio identitario di una scelta destra ebbene lì ci reagirono tutti Alemanno si stracciò le vesti mi ricordo Ignazio Larussa andò Alemanno si stracciò le vesti andò ad Anzio a celebrare i combattenti dell'RSI caduti contro gli alleati Ignazio Larussa fece una cosa simile e beh ora fini non c'è più Alemanno non so che fine ha fatto però Larussa c'è diciamo bello vivo e vegeto ed è proprio in quel partito se non sbaglio e questo è un grosso un grosso problema è un grosso problema allora ci avviciniamo un po' all'ora tarda però un'ultima cosa mi interessava evidenziarla perché poi la tocchi anche te nell'elemento e mi viene da ragganciare al discorso del nazionalismo secondo me è un'interpretazione abbastanza personale credo che ci siano enormi responsabilità in questo senso da parte di una narrazione che è riuscita fuori dopo la duta del muro di Berlino cioè si è soffiato su questo aspetto per cancellare la storia del comunismo reale o non reale si è soffiato penso all'Ecoslavia al fatto che si sia rionosciuto subito le indipendenze dei vari paesi senza nemmeno la garanzia della tutela dei diritti minimi ogni nazione ha tirato dalla sua parte la Germania e il Vaticano mi ricordo un pannella con la divisa da Ustascia diciamo c'è stato un contesto in cui questo e poi si è legato anche a quell'aspetto che ti tocchi fondamentalmente alla rinascita ad un termine che da un punto di vista storiografico penso anche alla riflessione di Traverso ma anche a quelle più strutturate da Enzo Pollotti che è il termine totalitarismo che è ritornato fuori negli ultimi 15 anni 10 perché prima era stato abbastanza diciamo da un punto di vista era un termine che non era più era considerato non utilizzabile perché era troppo marchiato dalla guerra fredda e il termine originario era magari quello utilizzato dal fascismo stesso in senso positivo e poi dagli antifascisti ma quello aveva un altro mentre è stato ritirato fuori il termine totalitarismo che è quello che rinasce poi riagganciando una specie di guerra fredda senza l'avversario in cui alla fine quello che si racconta è appunto come descrivi perfettamente la memoria antifascista europea diventa la memoria antitotalitarista e si fanno si approvano quei documenti in cui sostanzialmente si parifica l'esperienza del comunismo internazionale con l'esperienza del nazionalsocialismo addirittura sa debita lo scopo della seconda guerra mondiale al patto Mollo che comunque è una cosa certamente complessa e non particolarmente piacevole ma è che ha delle ragioni geopolitiche complesse ma non può essere ridotta certo all'avvio di una guerra che l'avrebbe iniziato comunque ecco questo aspetto qui sul riutilizzo nuovo di questi termini per come la vedo io è estremamente riduttivo se va a sostituire la memoria antifascista sì l'ultimo capitolo del mio libro è dedicato a questo alle politiche della memoria dell'Unione Europea agli orientamenti e la memoria pubblica in Europa e lì cosa abbiamo visto abbiamo visto che al pilastro della memoria della Shoah che era il pilastro centrale su cui l'Unione Europea dagli anni 90 in poi aveva costruito diciamo la sua identità storica che aveva un legame con l'antifascismo e l'antinazismo ovviamente si è affiancato un altro grande pilastro che è l'antitotalitarismo questo è legato all'ingresso dei paesi dell'Europa centrale orientale 2004 e 2007 polacchi ungheresi e tutti gli altri repubbliche baltiche che hanno rivendicato un'esigenza anche diciamo sacrosanta loro hanno messo in evidenza un gap memoriale in Europa dice voi l'Europa finora si è costruita sulla sulla memoria dei crimini del nazismo sostanzialmente noi abbiamo avuto un'altra esperienza anche noi l'abbiamo vissuta i crimini del nazismo però dopo il 45 abbiamo avuto un'altra esperienza siamo stati 40 anni sotto regimi comunisti adesso se voi se noi europei vogliamo davvero condividere diciamo una memoria una storia vi chiediamo attenzione rispetto a questa nostra esperienza ci poteva stare il problema ma è che diciamo come si è tradotta questa si è tradotta nella nella rivendicazione di una equiparazione fra crimini del comunismo e crimini del nazismo sulla base della cosiddetta uguale dignità delle vittime che è lo stesso discorso che in Italia fanno le destre sulle foibe quando dicono non esistono vittime di serie A e vittime di serie B quando Salvini dice ma che differenza c'è fra un bambino morto ad Auschwitz e un bambino morto nelle foibe cioè è lo stesso discorso che viene fatto in Europa qual è la differenza è che a un certo momento cioè in un certo momento molto rapidamente le istituzioni europee hanno accolto questa rivendicazione perché il Parlamento europeo già nel 2009 ha stabilito il 23 agosto giorno del ricordo delle vittime dello stalinismo e del nazismo è stata approvata la risoluzione su coscienza europea e totalitarismo perché tanto c'è da capire come mai polacchi baltici hanno sono riusciti perché sono riusciti a imporre questo hanno trovato una sponda nei tedeschi nel Partito Popolare e nella CDU tedesca la Germania Occidentale non era mai stata antifascista perché l'antifascismo era l'ideologia di stato della Germania orientale dell'altra Germania la Germania Occidentale era sempre stata antitotalitaria negli anni 50 la corte costituzionale di Karlsruhe mette fuori legge nel 52 il partito neonazista nel 55 e nel 56 non mi ricordo il partito comunista quindi diciamo dialogavano su questo si trovavano bene e così diciamo si è creato una una come si un connubio per così dire fra tedeschi e paesi dell'est per motivi anche i geopolitici ora non stiamo a entrare la Germania voleva riprendersi la propria area diciamo così quindi è tutto c'è dentro la memoria ma non c'è solo la memoria e siamo arrivati alla situazione certificata per così dire dalla risoluzione del Parlamento Europeo del settembre cos'è di settembre 19 mi ricordo anche con Simone Ricotta abbiamo fatto un bell'incontro proprio su questo in cui tutto questo in cui il paradigma antitotalitario è evidente un paradigma che crea molti problemi che crea molti problemi perché intanto rischia di espungere la resistenza antifascista che è sicuramente minoritaria oggi nel quadro della memoria europea così come si è delineato è minoritaria perché ci stanno dentro i comunisti e ha voglia a dire allora il ragionamento che faccio io anche nel volume voi avevate ragione nel chiedere maggiore attenzione alla vostra storia però non potete imporre questo modello a noi italiani a noi francesi a noi europei che noi abbiamo avuto un'altra esperienza io direi Berlinguer lo scrivo nel libro non ha nulla a che vedere con Aguzzino e la Stasi no? attenzione addirittura si arriva a un paradosso che in questa conformazione della memoria europea un gesto come quello di Sarkozy presidente conservatore come sapete bene francese che al momento dell'insediamento nel 2007 lesse una poesia scusate non una poesia l'ultima lettera di un giovane comunista francese Guy Mouquet 17 anni e sarebbe stato fucilato il giorno dopo dai nazisti un gesto del genere è politicamente uncorrect non si può fare nell'Europa no? come? la poesia di un comunista le ultime diciamo le ultime parole di un comunista attenzione tant'è che poi quella quel documento con la risoluzione del Parlamento europeo contiene anche un altro punto che ci dovrebbe diciamo far riflettere propone un'altra giornata con tanto di data 25 maggio la dico subito che è la data in cui dovremmo ricordare gli eroi della lotta contro il totalitarismo cioè l'unica resistenza ammessa è quella contro entrambi i totalitarismi sia contro il nazismo sia contro il comunismo e infatti si prende come punto riferimento un ufficiale dell'armata polacca Witold Pilecki che fu condannato a morte e fucilato dal regime comunista polacco nel 48 e questo Pilecki era stato un coraggiosissimo combattente antinazista uno di vede se fecero mettere ad Auschwitz per documentare le porcherie si facevano ad Auschwitz poi scappò si rifugiò a Londra si tornò in Polonia dopo diciamo l'arrivo dei comunisti al potere lottò contro il partito comunista e fu giustiziato ecco il modello secondo questa risoluzione il Parlamento Europeo il modello resistente europeo è Pilecki allora capite insomma un problemino per l'Italia per chi ha avuto un'altra un'altra esperienza beh guardate in Italia la destra l'ha trovato il suo Pilecki l'ha trovato già negli anni novanta e si chiama Edgardo Sogno è l'unico partigiano glorificato da Forza Italia e dalle destre sapete era uno coraggiosissimo perché coraggiosissimo combattente antinazista liberale monarchico che poi però negli anni settanta è stato diciamo così implicato in progetti di golpe lui un anticomunista diciamo a ventiquattro carati non mi stupisce ad esempio ho notato che nel per l'ultimo venticinque aprile il Tg2 ha fatto uno speciale su Edgardo Sogno fatto molto bene dal punto di vista giornalistico però ecco allora ci sono tante questioni che fra l'altro e dico questa l'ultima cosa perché poi è veramente tardi sto notando però interessante perché si è creata una crepa anche all'interno dello stesso schema antitotalitario c'è stata una rottura negli ultimissimi anni fra i tedeschi e i polacchi semplifico molto si è visto in occasione dell'inaugurazione della casa della storia europea d'Europa a Bruxelles che è questo principale progetto dell'Unione Europea in termini di politica della memoria un progetto tedesco perché è un progetto lanciato da Hans-Gerr Pötting nel 2007 addirittura che era ex presidente del Parlamento Europeo Partito Popolare Europeo CDU tedesca eccetera eccetera ecco e lì sì c'è questo approccio antitotalitario per cui c'è le liberal democrazie che combattono sia contro il totalitarismo nero sia contro il totalitarismo rosso per capirsi però ecco vanno a vedere quel museo una delegazione di polacchi ungheresi eccetera eccetera escono era agosto del 17 escono da lì e scrivono 15 pagine un documento 15 pagine durissimo contro quel museo durissimo cos'è che non gli torna? non gli torna che la nazione in quel museo è vista solo come un elemento negativo sinonimo di sciovinismo razzismo eccetera perché quella è la visione tedesca perché i tedeschi sono sia antitotalitari ma assolutamente non nazionalisti è un tabù la nazione per la Germania di oggi nel giorno della festa nazionale tedesca non c'è parata militare tanto per capirsi ed è che è il 3 ottobre è il giorno delle moschee aperte capite un po' l'approccio com'è diverso invece no per i polacchi la nazione ha un valore positivo che va riconosciuto anche a livello europeo tant'è e l'accusa mi ha colpito molto loro dicono guarda inorriditi voi state provando a costruire l'homo europeus uguale a com'era l'homo sovieticus costruito dai sovietici prima cioè tagliandoci le radici nazionali come se fosse un'operazione dall'alto che priva i popoli europei delle loro radici nazionali capite quale diversa opzione culturale anche politica ci sta dietro all'interno dello stesso cappello antitotalitario mettiamola così e le opzioni sono molto diverse la Germania è una società attualmente almeno finora che si descrive come multietnica multiculturale una democrazia una federale multietnica multiculturale dall'altro lato abbiamo Orban abbiamo il partito polacco come dei Kaczynski che invece hanno un'altra visione una benaltra visione della nazione e quindi c'è insomma in ballo ci sono anche queste due opzioni e tutto sommato forse anche in Italia intravediamo delle ombre di questo genere che illustrazione magistrale infatti l'ultimo capitolo come tutti gli altri ma l'ultimo è particolarmente interessante perché appunto si rapporta all'oggi e alle prospettive per il futuro e oltre la memoria anche si spera la storia perché la storia ci vuole abbiamo già abbastanza bisogna pensare a un utilizzo più della storia ecco perché ci dobbiamo nutrire di più storia perfettamente d'accordo abbiamo fatto le 11 e 12 forse è l'ora diciamo che possiamo salutare i nostri ascoltatori chi era o la collegata oppure può vedere questa questa interessantissima discussione di stasera sul canale youtube della storia per tutti e come al solito Simone Ricotta mi dice di ricordarmi qualcosa che mi sono già scordato e che dovremmo presentare il romanzo partigiano l'onore di esserci di Matteo Rinaldi però però ancora non dobbiamo decidere la data e probabilmente e anche questo non è certo speriamo di sì ma insomma lo faremo in presenza speriamo anche di riavere Filippo Focardi con noi per un appuntamento in presenza e per ampliare la discussione su alcuni dei temi di cui abbiamo parlato stasera in particolare magari potremmo pensare anche a un incontro sulla questione anche su ora è stato messo un ballo anche il centenario della marcia sul Roma ma anche comunque ritornare sulla questione di questa legge così particolare ha portato tante discussioni con quello che ha istituito il giorno del ricordo quindi magari un'occasione anche per discutere e anche magari per discutere l'ultimo libro di Filippo Focardi volevo solo ricordare perché non l'avevo detto che questo essendo Filippo Focardi dirittore scientifico dell'Istituto Nazionale Parri che è il primo volume della collana dell'Istituto Nazionale Parri questo è il primo volume della nuova collana di Viella ecco che è importante appunto perché comunque Viella è un editore molto importante dal punto di vista della ricerca storica preannuncio anche probabilmente riusciremo a presentare anche un altro libro ora vediamo anche questo come e in quale condizione su una figura di una anarchica spagnola che ha scritto Michela Cimbalo una giovane storica un libro molto interessante vediamo un po' quali saranno come si dice state collegate in italiano seguiteci insomma grazie soprattutto grazie a Filippo è stato qui con noi fino a quest'ora è stato un piacere davvero torno volentieri magari in presenza si come dicevi organizziamo in presenza c'è anche la parte conviviale non è grazie a tutti buonanotte grazie a tutti arrivederci grazie a tutti